Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio tutti gli utenti che guardano questi bellissimi incontri, ringrazio anche il gruppo teatrale instabile del grande Mario Crocco che sta avendo un successo enorme, questo mi fa un enorme piacere a me direttamente ma anche tutti i collaboratori che ho l'onore con cui lavorare per la buona uscita di questi meravigliosi lavori. Bene, allora Andrea Mantegna, Andrea Mantegna Padovano si firma nella Camera dei Sposi, Mantovano per Giorgio Vasari in effetti Mantegna non era né Padovano né Mantovano, era Vicentino perché era nato nel 1430 nel territorio di Vicenza a Isola di Carturo, ma va a lavorare nella Padova, una Padova fondata da Antenore, fuggito da Troia, la Padova di Tito Livio e la Padova di Francesco Petraca, una Padova che quando arriva Andrea Mantegna era, e lo vedremo, la capitale europea dell'arte, questa era la città di Padova, ma è la Padova della Cappella degli Scroveni di Giotto, è la Padova del Battistero di Giusto da Menabuoi e dell'Oratorio di Altichiero, quindi anche sotto il profilo pittorico Mantegna mette piedi in un luogo veramente importantissimo. Lui è bottega da Francesco Squarcione, un sarto il quale era antiquario eccetera, ma la grandezza di Francesco Squarcione che poi lui litigherà con Francesco Squarcione perché lo denuncerà per motivi che possiamo stare qui, altrimenti non finiamo più. Comunque lo denuncia, paga la denuncia, ma soprattutto all'interno della scuola ci sono degli artisti incredibili, c'è Cosme Tura, Carlo Crivelli, ma poi c'è Lo Schiavone, quindi è una scuola importante per Andrea Mantegna. Iuna Padova e Iuna Venezia dove vengono a lavorare i più grandi artisti del Rinascimento e quindi Andrea del Castagno, vedete che lavora, qui lo vediamo nell'arte musiva della Basilica San Marco e qui lo vediamo nell'antica cappella della bellissima chiesa di San Zaccaria a Venezia, vedete? E quindi Paolo Uccello e Donatello. Donatello, quando arriva Donatello è lì che Padova diventa la capitale artistica d'Italia e essere capitale artistica d'Italia del 1444-45 quando arriva Donatello voleva dire essere capitale artistica d'Europa perché con l'arrivo di Donatello arrivano a Padova i Vivarini, c'è la scuola di Francesco Squarcione, arrivano i Bellini e lui inizia a lavorare alla cappella a Vetari, pensate aveva 18 anni, per fare un percorso narrativo così bisogna avere una grande cultura, l'ho sempre detto, e considero nel gota dei pittori colti Andrea Mantegna, Michelangelo e il grande Van Gogh, anche Caravaggio aveva una grande cultura teologica. Andiamo avanti, questa è l'assunzione al cielo che si trova nella cappella a Vetari dove Tiziano la porta nella bellissima chiesa di Frari, eccolo qui vedete lui in quella Padova di allora quello che vediamo al centro è Jacopo Bellini, gli altri due che vediamo sono Gentile Bellini e il grande Giovanni Bellini, quella ragazza che è indicata con la freccia è Nicolosia la quale figlia di Jacopo e sposa Andrea Mantegna quindi immaginate questa famiglia con i tre meravigliosi bellini più Andrea Mantegna e Donatello lavora lì a Padova quando Mantegna ha 14, 15, 16, 17 anni e fa il gattamelata e fa l'altare del santo a Padova che non era così l'altare del santo a Padova, questa scompaginazione di soggetti è stata fatta da Camillo Boito, il fratello del grande compositore Enrico Boito, così era come la vediamo sulla sinistra, così era l'altare di Padova e sulla destra vediamo la pala di San Zeno, ecco vedete Donatello è l'artista più amato, più seguito ma non solo nella storia della scultura ma anche nella storia della pittura perché i suoi rilievi ha stiacciato un'impaginazione architettonica, prospettica una complicità narrativa che anticipa tutta la grande pittura del nascimento, non esagero dicendo che senza Donatello Mantegna non sarebbe diventato quello che è diventato perché a mio avviso Donatello è l'artista senza il quale non si sarebbe fatto il rinascimento con grande rispetto naturalmente del suo caro amico Filippo Brunelleschi, guardate come guarda proprio la classicità, vedete marmi policromi eccetera, qui siamo nella par, ogni frutto ha un suo significato, quei festoni di frutta lì hanno un suo significato, vedete e lui ama moltissimo Verona ma ama soprattutto moltissimo la classicità, vedete nel San Sebastiano sopra dove è indicata quella frezza vediamo il re Teodorico e le formelle di pietra che si trovano davanti alla Basilica di San Zeno e sullo sfondo Verona, non solo poi lui va a quelle che oggi chiamiamo le grotte di Cattullo, va alla villa di Cattullo e assieme a Felice Feliciano e il Tradate e altri letterati si vestono da consoli romani e parlano in latino parlano di Cicerone, parlano di Tito Livio, parlano soprattutto di Vergilio, ecco lui è veramente l'immagine del rinascimento classico, il nostro Andrea Mantegna, però Ludovico Gonzaga vuole anche lui il fuoriclasse, tutte le corti a Ferrara, a Ferrara c'era Valdassar del Corsa, Ercole Roberti eccetera e lui vuole Andrea Mantegna, però Andrea Mantegna insomma aspetta, non aspetta eccetera e quindi il nostro Ludovico Gonzaga pensa addirittura di farlo rapire, è stanco di aspettarlo, siamo attorno al 1460, Mantegna parte con tutta la famiglia, carica sulla barca, naturalmente viene su attraverso fiumi e quindi l'ultimo è l'Adige e porta la pala di San Zeno. Pensate, ho detto più volte, che vedere un'opera d'arte nel museo è veramente sprecata, ecco perché non amo i musei, soprattutto quando ci sono opere che hanno pale d'altare, perché qui vediamo la pala d'altare sulla destra, la freccia ci indica che Andrea Mantegna aveva chiesto a Gregorio Correr, Labate, Benettino della Basilica di San Zeno di aprire una finestra, immaginatevi come se a casa vostra venisse un architetto e vi vuole ristrutturare la casa e vi dice apriamo una finestra, 9 su 10 cambiano architetto, mentre Andrea Mantegna li riesce anche al castello di San Giorgio a Mantua. Pensate, fa chiudere due finestre gotiche e fa aprire quelle due finestre lì di modo che la luce reale venga a trovarsi illusivamente nel dipinto. Eccolo qui, vedete questo è il castello di San Giorgio in cui gli affreschi si sono salvati perché la struttura muraria è diversa dalla struttura muraria del convento di Santa Maria di Grazia a Milano dove il cenacolo si è completamente rovinato, è stato restaurato dalla meravigliosa Pinin Brambilla a Barcilò. Vedete, e andiamo avanti, eccolo qui, Ludovico Gonzaga, quindi Marchese, Marchese, Secondo Marchese di Mantua, ma era una Mantua veramente di grande cultura. Abbiamo Vittorino da Feltre il quale spiega le sette arti liberali nella casa gioiosa e pensate che Federico da Montefeltro viene a scuola a Mantua e il Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini, nel 1459 arriva a Mantua per una dieta che era in effetti per preparare una crociata contro il turco che nel 1453 aveva occupato Costantinopoli e porta con sé Leon Battista Alberti. Era abbreviario apostolico il quale, Leon Battista Alberti, inizierà la chiesa di San Sebastiano e poi inizierà anche la chiesa di Sant'Andrea, terminata da Alfancelli. Ma il tutto, la storia, è legata soprattutto a questo fatto. Doratea Gonzaga, prima Susanna Gonzaga, doveva sposare questo signore Galeasso Maria Sforza. Ma i genitori, Bianca Maria Sforza e Francesco Sforza, dicono che la ragazza Susanna ha la gibosità. Avere il difetto della gibosità implicava anche altre malattie. Allora dicevano così, non sono un medico per poter giudicare. E quella gibosità l'avevano ereditata da Paola Malatesta, che aveva sposato Gianfrancesco Gonzaga. Quindi quasi tutti i figli, ma li vedremo, di Ludovico Gonzaga hanno questi problemi. E qui nasce uno scontro tra Ludovico Gonzaga e gli sforza, perché vogliono mandare un medico a visitare, a tangere, a toccare la ragazza, se aveva dei difetti fisici. E poi vedremo nella Camera di Sposi cosa è successo nel rapporto tra Ludovico Gonzaga e gli sforza. La ragazza non aveva problemi, però è stata una scusa perché il re di Francia voleva che Buona di Savoia, figlio di Ludovico Savoia, fosse lei a sposare Galeazzo Maria Sforza e lì ci riuscì. Andiamo avanti. Ma la Camera veramente si rifà al nostro grande, non drammaturco, filosofo, ma poi era uno che amava scherzare, era un sofista, veniva fuori dalla scuola dei sofisti che è Luciano di Samosata. Quindi all'interno abbiamo soprattutto, senz'altro sarà stato Leon Battista Alberti, con tutto rispetto alla cultura di Andrea Mantegna, a spiegare il tutto. E pensate che nell'operette morali, il grande Leopardi, guarda soprattutto, anzi imposta le operette morali su Luciano di Samosata. E andiamo avanti. Eccoli qui. La lettera. Ecco qui abbiamo tutta la corte, mancano tre figlie, manca Susanna, manca Cecilia e manca Dorotea. Ci sono tutte le altre e le vedremo. Vedete? Eccolo qui. Ma per secoli, per secoli, vedete, si pensava che quella lettera lì fosse la lettera che ha ricevuto Ludovico Gonzaga della nomina, da parte di Pio II Piccolomini, del figlio cardinale, che è stato fatto cardinale prima del compimento della diciottesima età. Ma un grande studioso, che non posso non dirlo, infatti tutti i dati che vi dico, si rifanno questo grande Rodolfo Signorini, che io l'ho visto alla Gran Guardia quando c'è stata la mostra di Andrea Mantegna. Ci siamo alzati tutti in piedi dopo questa meravigliosa disquisizione sulla Camera dei Sposi e abbiamo buttuto le mani per cinque minuti. Quindi grazie a grande Rodolfo Signorini. La lettera è un'altra cosa, la vedremo. Innanzitutto la Camera dei Sposi 1465, vediamo, il 16 giugno, corrisponde la seconda domenica dopo Pentecoste, ricorrenza religiosa in cui nacque il Marchese Ludovico e durante la quale altra domenica di Pentecoste è avvenuta il 27 maggio 1459 dell'entrata di Papa Piccolomini in Mantua. Eccola qui, Raimondo Lupi di Soragna, grande famiglia, importantissima, anzi sono loro che commissionano all'altichiero l'oratorio di Padova, consegna la lettera. Eccola qui, Ludovico Gonzaga e vediamo. Però vedete che non si vede il mittente. Perché non si vede il mittente? Non si vede il mittente per la semplice ragione che la lettera è stata spedita dagli Sforza e con il dispetto che hanno fatto di rifiutare prima Susanna e dopo Dorotea all'interno della Camera dei Sposi non deve assolutamente esserci un riferimento alla famiglia Sforza. Cosa dice questa lettera? Brevemente questa lettera chiede a Ludovico Gonzaga e Bianca Maria Visconti, le quali gli chiede di andare a Milano perché si fa pericolo di vita di Francesco Maria Sforza. In effetti lui è ammalato, ma li passerà e vivrà ancora un bel po' il nostro Francesco Maria Gonzaga. Ecco qui vedete il grande legame che c'era con gli Sforza da parte di Gonzaga. lui era capitano dei soldati degli Sforza. Eccolo qui. Succede, lo vediamo, di mattino. Il mattino 30 dicembre 1461 il nostro Gonzaga riceve la lettera. Vedete che sono tutti vestiti a festa ma il nostro Gonzaga è ancora in pantofole. Si sta preparando per andare alla messa come era di consuetudine della famiglia Gonzaga. Eccoli qui. Abbiamo Barbara, la moglie di Ludovico Gonzaga, la quale si sposa che ha 12 anni e subito il concorrente che era il suo fratello dice che non può avere figli. E per bacco, aveva 12 anni, non può avere figli e quindi si cerca di trovare un sostituto di Ludovico Gonzaga. Ma succede che Ludovico Gonzaga sa che è una bambina. Quindi quando la bambina diventerà nonna gli darà nove figli. Eccolo Rubino, vedete, in cui il nostro Gonzaga ci teneva in modo particolare. Verrà seppellito nel prato di fronte al castello di San Giorgio. E questa bellissima lettera, trovata negli archivi da Rodolfo Signorini, questa bellissima lettera parla che Rubino bisogna portarlo a visitare a un addetto che segue quello che oggi è il veterinario, eccetera. Quindi ci teneva in modo particolare. Ludovico Gonzaga, figlio di Ludovico, il nostro Ludovico Gonzaga diventerà vescovo di Mantua. Gianfrancesco Gonzaga, vedete, perché la grandessa, torniamo indietro, la grandessa perché è molto importante. La grandessa di Barbara di Brandeburgo, nipote dell'imperatore del Sacro Romano Impero, aveva capito che nell'eredità i figli si sarebbero rivoltati uno contro l'altro, come era successo. E quindi lei con grande intelligenza, con grande capacità crea i possedimenti futuri per i figli. Quindi, eccolo qui, ritorniamo, vediamo già Francesco Gonzaga, Paolo Gonzaga, avrà un matrimonio veramente infelice, portava la gibosità e vediamo che Mantegna nasconde di questa ragazzina infelice. Vedete, Rodolfo Gonzaga, il quale muore nella battaglia di Fornovo era un violento, ucciderà la moglie, ucciderà la moglie con la spada e pensate, lui era bisnonno di San Luigi Gonzaga. Andiamo avanti, quindi Barbarina, ecco lei sposa, avrà un matrimonio felicissimo, era molto bella Barbarina. Eccolo qui, andiamo avanti, e la nana, vedete la nana, che è l'unica che ci guarda, ci sfida, ci interroga. Per tanti, anche questo, per tanti secoli si è sempre pensato che ci fosse nel palazzo ducale di Mantua una camera riservata ai nani. No, era nient'altro che una ricostruzione del Santo Sepolcro. Andiamo avanti, eccola qui, la bellissima camera, Francesco Gonzaga, quindi Lodovico si veste e parte per Milano per andare da Bianca a Maria Visconti e mentre Francesco Gonzaga, il cardinale, sta venendo assieme al fratello, che lo vedremo dopo, Federico II, quindi si incontrano a Bozzolo. Andiamo avanti, vediamo il re cristiano da Nimarca, vedete Federico III da Sburgo e abbiamo Federico I Gonzaga, il quale aveva la gibosità, ma guardate come Andrea Mantegna nasconde il tutto, nasconde il tutto, Marchese di Mantua, anche lui e abbiamo ancora Lodovico che è quel vescovo che abbiamo visto prima. Ma perché abbiamo il nostro Lodovico qui ancora? Per la semplice ragione, guardate, quel cerco che vi ho creato, vedete, questi tre ragazzi, cardinale, vescovo e vescovo, quindi sono legati tra di loro proprio perché il loro futuro era di entrare nel gruppo, di intattare vescovi e cardinali. Vedete, eccolo qui, Sigismondo, lo vediamo, quindi il bambino Sigismondo, Lodovico e Francesco. E poi abbiamo Francesco II Gonzaga che sposa Isabella Gonzaga che la vediamo qui, dipinta, più che dipinta, disegnata da Leonardo da Vinci ed è quello che vincerà la battaglia di Fornovo. Andiamo avanti, eccolo qui. Poi abbiamo quel cagnolino lì perché ci sono sempre, anche qui vediamo degli evrieri, dei molossi, pensate che loro, i Gonzaga avevano proprio allevamento di cani ma soprattutto di cavalli quando si chiamavano ancora Corradi prima di chiamarsi Gonzaga. Soprattutto di cavalli da torneo perché questi allevamenti, c'erano gli allevamenti a Poiana Maggiore nella villa di Poiana del Palladio, lì si allevava, naturalmente più tardi di quello che vi sto dicendo, cavalli da sfondamento fanteria e questi invece allevavano cavalli da torneo. Guardiamo sullo sfondo come lui guarda l'antichità, vediamo la piramide Cestia, vediamo tutta la Roma, la Roma antica che il nostro Mantegna rappresenta e poi guardate questi hanno cavalli da torneo e sullo sfondo che cos'è? È il Ponte di Veia, vedete? Il Ponte di Veia che abbiamo qui non molto lontano, poi abbiamo sopra delle costruzioni, abbiamo la Roccapia, il Castello dei Savelli e qui, ecco, questo è molto importante perché ha una grande importanza Caname Esposi? Per questo, questo che noi andiamo a vedere, per la semplice ragione che la famiglia messa così in vista, la storia eccetera, non ha nulla di particolare sotto il profilo artistico, è come la sala di Re Maggi, di Benoza Gozzoli, di Palazzo Medici, oggi Riccardi a Firenze, è che è quella pittura dal sotto in su che il maestro è stato Andrea Mantegna. Se voi pensate che Michelangelo nella volta della Cappella Sistina impiega tre anni per arrivare a questa capacità, a questa risoluzione, è questo importantissimo. Poi da qui ci sarà il Correggio e tanti altri artisti, vedete? Molto difficile la pittura dal sotto in su. eccola qui, vedete? Tale il palco ed il soffilo di questa sala che a lodarlo ci vorrebbe Omero, il quale lo direbbe di sublime volta, come il talamo di Elena, o raggiante come l'Olimpo e siamo sulla stanza del nostro Luciano da Samosata. E questo, vedete, questa è la chiave di volta della camera dei sposi. Se uno piglia un rosignolo o un cigno e lo fa cantare e mentre canta uno piglia un pavone che non canta, io so che l'attenzione si rivolge a questo e non bada ai gokeggi di quelli. Quindi è molto importante la vista che l'udito, vedete? E poi anche questa, veramente bella, sono tre ragazze, sempre quella ragazza, in cui dice bella come una bella e pudica donna, ma in pratica dice il nostro Luciano di Samosata che sono i barbari che si riempiono di collane, ori, eccetera. Una bella ragazza non ha bisogno di arricchire il suo corpo con delle ori e braccialetti o collane, ma basta un semplice filo da mettersi sulla testa, un pezzettino di tela. Questo è molto importante quello che dice Luciano di Samosata. Andiamo avanti. Ma Mantegna, come lavora all'interno della camera degli sposi? Pensate che lui inizia, abbiamo visto, lui ci lavora per tanto tempo e dice a una lettera che gli spedisse, manda una lettera a uno che chiede un crocifisso a Mantegna. Guardate cosa risponde Lodovico Gonzaga, dice, i quali chiede questo crocifisso, eccetera. Noi certo vorremmo satisfare la sua signoria in tutto quello che ne fosse possibile, ma come tu sai Andrea è uomo così fatto che ne sono tanti anni che cominciò a dipingere quella nostra camera e ancora non è fornita neanche la metà, la mitade, perché Mantegna era un tipo particolare e innanzitutto era litigioso. Lui, qualsiasi cosa, una volta litiga col vicino perché gli ha rubato le mele e lui corre del Rubicon Gonzaga. Una volta da il sarto, non gli fa il vestito fatto bene, con le maniche corte, lui va da lui. Ogni giorno dicevole con Gonzaga mi deve riempire la testa e lui lavora a camera degli sposi per un bel po' di tempo. Vedete, nel frattempo non aveva fatto altro Andrea Mantegna, non si era allontanato da Mantua, che poi tornando lì a Andrea Mantegna, pensate, Andrea Mantegna lascia Padova, è stato pagato profumatamente, ci mancherebbe, lascia Padova per andare a Mantua, per andare in questa città dove non c'era l'arte che c'era a Venezia. Voi pensate e naturalmente a Padova di riflesso Venezia, voi pensate che Mantegna, se fosse stato tra Padova e Venezia avrebbe conosciuto Antonello da Messina, il quale con Giovanni Bellini ha lavorato tantissimo, avrebbe conosciuto Leonardo da Vinci e avrebbe conosciuto il Giorgione. Capite? Quindi pensate il nostro Mantegna in quella Mantua da sola, da solo. Andiamo avanti. All'illustre il Dovico, secondo Marchese di Mantua, principe ottimo e invitissimo, all'illustre Barbara, sua sposa, gloria incomparabile delle donne, il loro Andrea Mantegna, Padovano, si firma Padovano, ma lui sapeva di essere Vicentino. Questa tene opera, a loro opere, portò a termine l'anno 1474. Quindi vedete è impiegato nove anni. E perché si chiama Camera di Sposi? Non perché era la Camera che non avevano solo quella lì da letto, Ludovico e Barbara, ma perché abbiamo la prima notte nel secondo secondo i Ridolfi, questo critico d'arte, abbiamo che Margherita Gorni e Alessandro Donesmondi dormono e si erano appena sposati. È stata la sua prima notte di nozze. Ecco perché si chiama la Camera degli Sposi dal 1573 e subito dopo fa questa meravigliosa opera. Il nostro Andrea Mantegna ha fatto tantissime opere a Mantua, la Madonna della Vittoria. Anzi, prima di lavorare a Camera degli Sposi fa un trittico per Ludovico Gonzaga che oggi si trova alla Galleria degli Uffizi a Firenze con i Re Magi, l'Assunzione e la Circoncisione al Tempio, vedete. Ed era amatissimo da uno dei più grandi pittori della storia dell'arte, Abrecht Dürer, il quale lui era a Venezia e vuole conoscere Andrea Mantegna. Pensate che lui mandava le lettere a casa, mando una lettera dicendo oggi in piazza San Marco ho trovato Giovanni Bellini, il quale mi ha fatto i complimenti per il mio lavoro. È stato il giorno più bello della mia vita. Ma quando arriva, va verso Mantua e prima di arrivare a Mantua, il 13 settembre del 1506 muore Andrea Mantegna, Abrecht Dürer dirà è il giorno più brutto della mia vita. E la lettera concludi dicendo quanto freddo avrò dopo tutto questo sole. Grazie mille.